bene questo è l'ultimo anno della gestione palladino ma l'ultimo anno e mezzo della gestione palladino perché di fatto la partenza del Monza se stroppa era stato esonerato era perché comunque aveva avuto difficoltà quindi se pensiamo che il Milan comunque fino a ieri aveva due punti, lì può avere anche il Monza quindi fondamentalmente non credo che la posizione di Nesta si valuti in queste tre giornate e oggi incontra l'Inter vogliamo tutti che per bene di Nesta che faccia risultato Marco, anche no infatti dicevamo tutti quanti il Milan va male con due punti il Milan è Milano Monza diciamo è più giustificato avere due punti dopo tre giornate vuol dire aver perso una gara soprattutto per come ha detto Paolo guardando quello che attenzione al Monza ora con Caprari che allarga a destra per Chiriacopulos entra in area di rigore ancora Caprari con la maglia numero 10 cerca di farsi largo in merda a tre giocatori alla fine frattesi, indemoniato gli toglie la palla viene atterrato dallo stesso Caprari quindi punizione per l'Inter ieri hanno chiesto in conferenza a Nesta di questa cosa di Galliani che gli vuole bene ha detto sì però vuole più bene al Monza quindi se i risultati non saranno dalla mia parte ha detto gli allenatori che vincono sono geni quelli che perdono sono cretini questo è il paese risultatico quello che dicevo c'è comunque il partito di Gregorio il partito col Pani vabbè Valentin Carboni che non giocava sempre però comunque la squadra è stata indebolita non è stata rinforzata assolutamente onestamente no vediamo se l'Inter insomma anche se onestamente Michele ci si aspettava forse un po' più di turnover ancora alla fine non è stato così clamoroso sì io me l'aspettavo uno in più cioè un attaccante perché in centrocampo due giocatori difesa due giocatori ma aspettavo Lautaro fuori però non sapevo di questa cosa di Taremi fino a ieri che era arrivato insomma non al 100% e sono arrivati giovedì sono stati gli ultimi ad arrivare con Dunfriss e Aslani attenzione ora proprio a Lautaro a limite dell'aria che scambia con lo stesso Frattesi che ovunque Frattesi sul sinistro scarica per Turam che alla fine si fa deviare questo tiro cross e la palla finisce in fallo laterale da tutta altra parte Turam che è partito fortissimo quest'anno con 4 gol capocannoniere in 3 partite oggi ha segnato Retevi quindi vediamo di rispondere caro Marcus Turam la rimessa è per il Monza posso dire che se non è Frattesi poteva calciare sì infatti è la sua caratteristica secondo me si è inserito bene doveva calciare si era aperto anche lo spazio perché ce l'aveva sul sinistro forse perché ce l'aveva sul sinistro però ha visto Turam che era più defilato di lui forse se era sul destro l'avrebbe sicuramente tirato ma faceva bene a provare lo stesso attenzione sbaglia il Monza il tiro di Di Marco fuori rasoterra un passaggio scellerato della difesa del Monza in uscita in orizzontale come si dice a scuola calcio non bisogna fare l'hanno fatto Di Marco era lì però non ha saputo approfittarne l'errore in difesa clamoroso proprio di Maldini la si deve farò dall'altra parte e Di Marco e deve puntare l'altro fondo campo più che altro perché ha puntato il suo fondo del campo e Maldini qua sbagliato forse quando si dice gli attaccanti in difesa fanno più danni che altro in questo caso ha provato a giocarla rasoterra rischiando però è quello che ti insegnano sin da bambino mai fare queste in orizzontale soprattutto ancora palla in verticale apertura troppo lunga per il francese quindi Turati ha buon gioco a uscire presa a basse riparte 6 minuti di gioco 0-0 a Monza tra Monza e Inter Inter che deve un attimo carburare diamole un po' di tempo anche perché di fatto Inzaghi ha avuto i giocatori a disposizione giovedì sostanzialmente la squadra al completo tra i vari nazionali che se ne sono andati ha avuto poco tempo relativamente poco tempo per preparare la partita con il Monza chissà quanto senta la pressione magari di un Napoli che ha guadagnato la testa della classifica e al quale l'Inter adesso deve rispondere non lo so l'anno scorso hanno risposto molto bene alla pressione della Juve che giocando sempre prima andava sempre davanti Attenzione ancora Caprari palla in aria di rigore Svetta De Vrai ma palla ancora ai giocatori del Monza Maldini il tiro centrale quindi Sommer non ha problemi a bloccare qui Maldini dall'altra parte più a suo agio insomma il tiro non è granché però si era coordinato bene poi il tiro insomma troppo fiacco e va l'MLM tra le braccia di Sommer può ripartire l'Inter ora vediamo se imbastisce un'azione sull'asse di sinistra di solito Bastoni di Marco oggi Bastoni lasciato a riposo prudentemente anche perché era andato in nazionale doveva giocare una partita lui e Cialanoglu non erano al 100% e quindi li vuole risparmiare tutti e due anche perché sarà una settimana che l'Inter concluderà con Manchester City e soprattutto il derby domenica prossima Inter che ora è in posta ancora con De Vrai alza la testa il centrale olandese che torna titolare dopo anche lui un periodo di stop ad agosto infatti non è andato in nazionale da Koeman che lo stima molto ora ancora Mkhitaryan per Di Marco attenzione il cross di Federico Di Marco il colpo di testa di Lautaro che esce non di molto alla destra di Turati non credo ci siano state deviazioni qui Lautaro forse poteva colpire un po' meglio perché va dritto per dritto vediamo il colpo di testa non l'ha toccata nessuno quindi palla fuori Di Marco che si mette le mani un po' nei capelli dice peccato peccato occasione sprecata il Monza il Monza sta scegliendo non so se è una scelta di far giocare l'Inter fa densità più nella sua metà campo e per esempio non sta facendo la piccola media squadra che ti gioca addosso o ti aggredisce come abbiamo visto per esempio ieri l'Empoli con la Juve ecco il Monza sta giocando un po' più vecchia maniera non è un catenaccio sostanzialmente gioca con i tre attaccanti sui loro tre difensori però gli consente il giro palla fino a metà campo avendo un uomo in più centro campo una delle due punte deve a un certo punto scendere sulla mezzala di inserimento attenzione a Turati che sbaglia sul pressing di Turano che poi di tacco serve Lautaro al limite dell'aria la perde il capitano e può ripartire il Monza ma ancora Inter che recupera palla alta 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 sulla tre quarti quasi a ridosso dell'aria ora però sbaglia pure l'Inter il passaggio in orizzontale con Aslani e quindi può ripartire il Monza con Caprari a tutta la fascia destra Pedro Pereira che può scendere alza la testa il cross respinto ancora da Aslani che ha recuperato la posizione il giocatore dell'Inter dell'Albania ora subisce fallo quindi punizione punizione per l'Inter però il Monza in difesa con questo giocare palla dal basso è quasi sempre perderla è quasi sussita l'atteggiamento lì il portiere c'è sicuramente avete parlato che non giocano da provinciale però io suggerirei no 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 giocano un po' da provinciale non giocano come c'è per basso soprattutto al portiere come ha detto Francesco ogni tanto prova a calciare lungo però è il secondo errore che fanno e visto che parlo dei bei tempi fatemi aprire una parentesi estetica visto che sono innamorato delle maglie classiche tradizionali ma chi ha disegnato la maglia dell'Inter? pensa che ai miei tempi quando giocavo scusate nell'Inter la terza maglia era così il giallo torna sempre perché l'Inter nero lo ha azzurro ma questi i rigori laterali alla Versace mamma mia se è molto antico che per poco non riesce a far ammassare questo pallone è una spaglia voglio la maglia classica non vuoi che la sportiera non vuoi che giochi con i piedi non vuoi le magliette dei rigori ancora pensati dopo stante prima il Manchester City in Champions League con l'Inter giocherà con una maglia dedicata agli oasis cioè capisci ma tu verresti ancora i treni a vapore praticamente io vorrei una bella maglia il calcio alle 15 la domenica alle 15 io sono sono vicino visto che parliamo di Inter a Danilo Sarugia che saluto che quando portava la maglia dell'Ambrosiana a Inter diceva che doveva essere questa però spesso una laggia a favore di Ezio allora va bene la terza maglia però se si confondono c'è il bianco rosso contro l'era azzurro è tutto bello e che facciamo e giochiamo normale mamma mia ragazzi se mi sentissero quelli del commerciale di una qualunque si denuncerebbero credo sicuramente Ezio non ti chiederanno quelli del marketing di disegnare delle maglie dopo fai i debiti per comprare i giocatori serve anche questo allora continui di la maglia gialla va bene teniamoci la terza maglia attenzione la terza maglia che ha questo baffo Nike all'insù è una particolarità questo si c'è anche Luciano Spalletti c'è Spalletti che si è visto la Juve e adesso si vede l'Inter e beh giustamente segue i suoi nazionali segue quelli che ha tenuto sotto controllo in particolare credo che si aspetti molto da Frattesi che con lui è il capocannoniere peraltro sei gol con lui con Spalletti sette gol in nazionale in ventuno partite quindi quella media che dicevo nell'Inter è alta anche in nazionale insomma segna un gol in meno di due partite è una media da attaccante ora c'è una punizione per l'Inter a proposito di attaccanti Lautaro che ha fatto il capocannoniere della Coppa America che è il capocannoniere del campionato ma da Inter Atalanta del 28 febbraio in poi in campionato ha segnato solo col Frosinone 0-5 con l'Inter che non sfonde adesso il Monza che prova a ripartire Monza che prova a ripartire ma Inter che conquista palla a centro campo prima c'è stato un batti e ribatti in area di rigore ma non c'è stato il rimpallo giusto per gli uomini in giallo oggi la terza maglia dell'Inter che esordisce allo U Power Stadium gremito per questo derby lombardo Monza internazionale ora l'Inter che imposta ventesimo minuto sempre 0-0 con De Vrai che rallenta un po' il gioco ora Aslani prova la verticalizzazione per Lautaro Lautaro frattesi Lautaro a sinistra per Di Marco c'è Di Marco nell'area di rigore il cross spizzato da un giocatore del Monza arriva Darmian dall'altra parte sponda per Turam che si deve girare la tocca di mano protestano i giocatori del Monza se ne avete Pairetto che fischia il fallo in favore dei padroni di casa quindi punizione per il Monza che può respirare e ripartire Monza che è stato tutt'altro che impeccabile in fase difensiva almeno per quanto riguarda la costruzione ma per il momento l'Inter non ne sta anche approfittando c'è da dire che a parte il colpo di testa fuori di Lautaro al momento non è che ci siano grandi occasioni da gol per l'Inter c'è un Simonin Zaghi abbastanza perplesso da bordo campo guarda i suoi viene sempre da dire è vero che è un Inter che senza Cianonoglu senza Barella non è tra virgolette la vera Inter però in questo momento sta facendo giocare Aslani che è stato preso per fare il vice Cianonoglu e Frattesi che è stato grande protagonista con l'Italia quindi teoricamente tu hai parlato dell'occasione di Lautaro che era grossa perché era vicino ed era completamente solo colpito senza nessuna pressione non era proprio da solissimo guardalo no solo da solo diciamo che poi non è così facile diciamo arrivare in corsa per carità diciamo che hanno costruito diciamo che hanno costruito l'azione più pericolosa costruendo l'azione perché il Monza gli ha dato due occasioni per fare male quella di Di Marco e l'altro quella di Di Marco volendo anche quella è un'occasione tutti i due casi le azioni nascono dalla destra del Monza cioè come si chiama all'esterno alto il quarto di destra Pedro Pereira ecco è veramente un po' superficiale se tu fai una partita così difensiva devi stare attento ai particolari qua la palla l'occasione prima gli passa sotto il piede e libera diciamo l'esterno e la volta prima non capisce che deve andare a giocare subito sulla corsa di Di Marco e gli consente partendo un attimo dopo di mettere una palla pulita poi Di Marco ha un bel piede e le cose le fa bene ok quindi lì a destra secondo me del Monza è la zona dove può performare l'Inter per qualità di Di Marco ma anche oggi per un atteggiamento un po' superficiale dell'esterno alto del Monza Fratesi Aslani che hanno giocato insieme l'anno scorso sia a Firenze partita molto combattuta 0-1 vinse l'Inter ma però un rigore Sommer e poi vinsero insieme 0-4 a Lecce nel febbraio che insomma diede un po' l'indirizzo al campionato scorso però quando non ci sono Barrele e Cianocchi insomma non è proprio la stessa cosa devo dire oggi al di là del fatto che l'Inter stia comunque tenendo il pallino in mano sì quel colpo di testa di Lautaro poi l'errore del Monza di Marco forse potrebbe anche lì essere più preciso l'Inter tiene il controllo della partita però non sta proprio creando tantissimo siamo già a metà del primo tempo però adesso c'è tutto lo spazio e il tempo per andare a colpire anche perché la coppia titolare è davanti e quindi non credo che oggi Lautaro dovrà fare più di un'ora anzi mi auguro di no anche perché la gestione quest'anno sarà molto importante lui che vedevo ieri Nico González con la Juventus entrambi hanno giocato insieme con l'Argentina martedì in Colombia partita molto dispendiosa e quindi comunque l'Inter in panchina ha Arnautovic ha lo stesso Taremi che non sta benissimo però uno spezzone lo può fare e poi c'è anche sempre Correa attenzione in panchina c'è anche Correa che è rimasto il motivo di andare a prendere Taremi anche abbastanza presto rispetto al solito era perché l'anno scorso è mancata l'alternativa a qui due davanti perché Arnautovic ha avuto delle difficoltà è chiaro che però hai detto bene tu sì è vero idee buon gioco però dopo 23 minuti mi aspetto adesso un'accelerata perché poi sono le classiche partite che sono le sblocchi sei già in paura? no però conosco i polli posso dirlo? conosco i polli vieni da due anni che faccio tutto adesso conosco i polli partite che si incastrano in maniera negativa ne abbiamo veste tante ma non solo con l'Inter Inter che ora è in possesso sulla tre quarti 24 minuti di gioco con l'Inter che sta alzando ora molto la linea anche difensiva vuole mettere le tende nella metà campo del Monza che si difende il compatto tutto dietro la linea della palla attenzione di Marco il cross per frattesi anticipato palla che però finisce sui piedi di Pavard e ora ancora Inter a destra Gondarmian che però si fa anticipare da Kiriakopoulos terzino sinistro ma anche un po' regista De Pernesta perché aiuta molto anche nella costruzione che spesso pende a destra oggi abbiamo detto manca Birindelli a sinistra ma anche Ciurria nel Monza quindi c'è Pedro Pereira il portoghese così come Danimo da Carvaglio che per oggi non è titolare è stato preferito Caprari palla in fallo laterale attacca l'Inter sulla destra sull'asse Pavard d'Armian ma anche Frattesi da quella parte a dare una mano torna indietro sul fallo laterale da Aslani per costruire ancora l'Inter cercando un po' di stanare il Monza che però non ha nessuna intenzione di andare a pressare alto e quindi aspetta ora Inter che quindi deve trovare il giusto spazio l'imbucata come si dice in questi casi anche perché l'Inter non è una squadra diceva prima Marco bene attenzione ora un passaggio un po' troppo corto ma Inter che recupera palla c'è l'Inter è una squadra che è bravissima ad andare negli spazi ma con le squadre chiuse non ha tanti giocatori che hanno il dribbling a parte forse Turam e quindi vuole andare col pallone in porta sempre con questa azione manovrata fino allo sfinimento ora c'è Carlos Augusto per Turam l'Inter è tra le squadre che fa più gol dopo 10, 20 anche 30 passaggi in alcuni casi addirittura ora c'è proprio Mkhitaryan continua il fraseggio con Di Marco Di Marco sulla sinistra il cross attenzione buono per Frattesi che colpisce di piattone di poco fuori ancora l'attaccante aggiunto dell'Inter il velo di Lautaro arriva a Frattesi che non l'ha colpita proprio benissimo questa è più grossa di quella di Lautaro come opportunità è stata senz'altro più grande costruita bene con Di Marco che l'ha messa in mezzo bene Lautaro non la prende di testa arriva a Frattesi da dietro che non la colpisce se l'ha un po' mangiato lo possiamo dire? eh sì secondo me è stato un po' ingannato dalla finta che gli ha fatto Lautaro davanti non era una finta la voleva forse no no certo dal velo che se l'è trovata lì ragazzi Di Marco i palloni li mette dentro da qualunque posizione ha una facilità di calcio che è impressionante vero però ha trovato poca opposizione fino adesso il Monza sarà a dieci minuti che non fa un passaggio che non esce dalla sua non prendono mai la palla si chiama 11 contro 0 questa cosa a me è una condotta di gioco veramente cioè umiliante dai ora pallo su bondo e quindi conquista una punizione nella propria metà campo il Monza quando non è il centrocampo Barella c'è la Noglu Michi Italian non è la stessa cosa gli interpreti non sono proprio un dettaglio nel calcio dai però hai fatto una campagna acquisti e un lavoro sulle seconde linee dove le seconde linee queste partite qui tre devono portare a casa infatti come personalità l'Inter sta avendo il pallino in mano il Monza la teme tutta dietro la linea della palla se vogliamo anche vedere Turati che parati ha fatto no neanche uno nessuna le due occasioni sono state un colpo di testa a lato e un tiro che ti hanno concesso loro attenzione ora Michi Italian dritto per dritto però non allarga a destra per Darmian sbaglia il tocco e la dà Turati bisogna tirare ogni tanto anche di più da fuori perché quando non riesci a superare in velocità la linea difensiva o vai col dribbling o prova anche ogni tanto da fuori la Juve una delle Juve Forti Allegri spesso risolveva le partite quando aveva Pirlo Vidal Marchisio e metà campo calciava a 30 metri in un calcio dove molte squadre si chiudevano quelle che giocavano per salvarsi quando giocavano con le grandi stavano tutte dietro quindi secondo me era più facile come l'Empoli ieri? no l'Empoli è giocato l'ultima mezz'ora Paolo l'ultima mezz'ora Catenaccio l'Empoli è giocato a calcio ha prestato ha aggredito alto ma io ti dico non sono così contrario alla tattica difensiva del Monza la vedo molto rinunciataria quando è in possesso ora Kiriakopoulos sulla sinistra attenzione a Pessina che vuole scambiare con Greco ma sbaglia il passaggio di ritorno e quindi l'Inter può recuperare palla e ripartire un buon break di Frattesi che la dà Michiterian attenzione perché sta rivenendo su di lui forte Daniel Maldini che gli toglie palla e quindi il Monza sventa questa azione che poteva essere interessante per l'Inter perché il Monza era una delle poche volte sbilanciato in avanti ora c'è Caprari Caprari sulla tre quarti rallenta proprio in surplus si ferma ogni tanto si ferma lì cosa fa Lautaro il pallo ora subito da Pessina punizione per il Monza 30 secondi dalla fine del primo tempo abbiamo detto prevediamo massimo un minuto di recupero tra un po' lo capiremo c'è Lautaro che non è soddisfatto ma nemmeno noi insomma di come sta giocando l'Inter oggi soprattutto per il ritmo non per l'iniziativa lo ripeto ma anche per l'iniziativa Michi perché tante volte mi ha giocato sotto ritmo e il giocatore in area lo abbiamo portato secondo me ci sono troppi errori Mkhitaryan in un paio di occasioni ha portato troppo palla poi hai ragione non ti tiri in porta e se vuole sempre arrivare in porta col pallone questo è un errore loro stanno facendo la loro onesta partita secondo me è vero che sono molto rinunciatari davanti però sono ordinati dietro punizione per il Monza sulla tre quarti Caprari che lascia Chiriacopoulos che di sinistro quindi crossa dalla tre quarti in mezzo all'aria però cross da là sono buon gioco per i difensori finito adesso primo tempo 15 secondi oltre finisce il primo tempo 0-0 un primo tempo deludente anche dell'Inter eh sì 0-0 vediamo subito la classifica di Serie A come si muove ma si muove poco per l'Inter perché in questo momento porta a casa soltanto un punto la formazione di Simone Inzaghi è un pochino un pochino come come quantitativo anche di azioni create in questo momento il Napoli resta sempre al comando a quota 9 punti in classifica con Inter-Juventus e Torino a quota 8 Senti una cosa veramente le parole di Ricchi pochi istanti fa ovvero prima lo 0-0 lui che temeva tanto il Monza ha detto se vinciamo il derby lasciamo a meno 8 i cugini io adesso guardo che la classifica potremmo essere domenica sera a pari punti tu dici è impossibile che voi vincete oggi fate bene con il Manchester assolutamente ti sei perso un se no 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 non hai detto se vinciamo se vinciamo il derby hai detto arriviamo a più 8 non hai detto se vinciamo oggi ho detto è una settimana importante perché con Monza e la possibilità di mandare Milan a meno 8 presuppone questo ragionamento però che tu vinca stasera è evidente quindi lo dava per scontato lo dava per scontato come vedete conoscendo quella è la scaramanzia poi dipende sui pallone oggi siamo sotto ritmo e giochiamo male ma ci sono ancora a 45 minuti ci sono soprattutto i cambi i cambi bravo difatti però c'è da dire questo però c'è da dire questo che ancora una volta o l'Inter mette i titolari o se dai fiducia fra tesi se dai fiducia da Slani e alla fine non ne vieni a capo ma se lasci giocare questi fino alla fine secondo me prima o poi però è anche il turnover questo qui è vero che non sfondi fai 0-0 col Monza comunque fai rifiattare un po' i tuoi big diciamo perché male che vada stasera c'è la Noglu e Barella ad esempio fanno solo 45 minuti però anche i titolari dice per esempio Lautare Turano non è che stiano facendo una grande partita secondo me il migliore ripeto Di Marco ha fatto veramente uno dei migliori facciamo gli up and down dai facciamoli subito allora dai gli up and down di questo primo tempo abbiamo detto non eccezionale però troviamo tre e diamo sei e mezzo a tutti e tre non sono diciamo le prime donne gli attaccanti ma sono Di Marco come diceva adesso Riccardo Di Marco sei e mezzo tra i migliori perché si dà da fare ha fatto quel bel cross a frattesi è vero che il tiro non era proprio precisissimo ha avuto anche lui un'occasione però comunque uno dei pochi che ha provato così come Carlos Augusto anche lui non mi è dispiaciuto perché in difesa è vero il Monza è arrivato poco ma quei due o tre cross che hanno messo in mezzo Carlos Augusto di testa è una sicurezza e si sta proponendo anche in avanti quindi Di Marco sei e mezzo Carlos Augusto sei e mezzo il terzo mi sta piacendo anche Pavard perché sta spingendo molto anche da difensore e forse si merita anche questo primo gol con la maglia dell'Inter chissà che sarà lui oggi a sbloccarsi Pavard sei e mezzo quindi tutti e tre sei e mezzo Pavard Carlos Augusto Di Marco poi c'è anche un triplo cinque e mezzo però cinque e mezzo per Lautaro io direi anche cinque Lautaro che è sottotono forse esatto forse un po' persino per l'aspettazione ma lui la partita finisce Michele non riesce mai ad essere severo con Lautaro mi ricordo però anche un'altra partita la partita ma devi valutare il pizzo ma no però anche dagli cinque secco penso che non sarebbe una bestemmia non si offende non ti chiama non ti chiama cinque e mezzo cinque e mezzo poi cinque e mezzo anche per Michele perché è sempre lui diciamo il simbolo dell'Inter quando lui gira gira tutta l'Inter non mi piace che quando entra in aria deve provare un po' di più a tirare quindi cinque e mezzo per lui l'ha avuto un paio di palloni interessantissimi e continuiamo ad andare sul fondo sul fondo cinque e mezzo a Mkhitaryan come Lautaro e poi do anche cinque e mezzo un po' mi dispiace però Aslani si vede che è diligente sta crescendo però con più personalità deve andare con più velocità ad alimentare l'azione bravo tatticamente ma poca verve poca brillantezza nell'andare veloce a verticalizzare l'Inter c'è il dinamismo oggi oggi l'Inter non è dinamica no tra te si va sempre gli esterni vanno l'intensità con il quale gira palla vero che comunque con il quale aggredisce gli spazi non è la solità di sempre non sono d'accordissimo sulla cinque e mezzo a Mkhitaryan perché al di là del fatto si che deve passare però di fatto tutte le situazioni quelle poche pericolose dell'Inter sono capitate per i suoi movimenti o per le sue giocate assolutamente d'accordo con Aslani che è troppo prevedibile un po' come dire scolastico nella gestione del ruolo poca fantasia poche intuizioni poche intuizioni poche senso poche senso poche senso molto da compitino avrei premiato avrei premiato Frattesi perché comunque è uno che va dentro ha avuto la palla a gol che si è mangiato non lo so se ce l'ha mangiato era facilissimo gli è saltato alta e un po' addosso non ha potuto coordinarsi ma io sarei stato più cattivo con Lautaro e Aslani poi Lui con Lautaro non può non si sa perché ma non può lui da sempre mezzo qua di più mentre Turam non lo metti nei promossi dibocciati Lautaro e Molivio ce l'ha intoccato ma è chiaro che scusa Ricci Lautaro tu lo devi giudicare con la severità di un Lautaro cioè di uno che è un leader che addirittura qualcuno lo vorrebbe tra i primi tre del pallone d'oro non io e con lo stipendio che ha e con il rinnovo che ha fatto cioè voglio dire è chiaro che devi giudicarlo in modo un po' più severo non sei giusto se sei severo con Aslani e non lo sei con Lautaro Martínez però c'è una differenza quella è sudditanza è sudditanza verso il personaggio però vedete insistete l'ultima volta che abbiamo fatto la discussione di un'ora su questo per le pagelle il giorno dopo sei e mezzo sei e mezzo sei i tre quotidiani sportivi abbiamo dato sei meno e mi avete bacchettato in cui si giudica il primo tempo di Monza Inter è il giorno che il 5 e mezzo sia persino troppo per la prestazione di Lautaro dopo di che finisce una zero lui ti trova la zucca allora siamo d'accordo che non è sotto il 5 scusa avreste dato 5 quindi stiamo parlando 5 e 5 e mezzo però scusami in una partita dove l'Inter praticamente è sempre stata nell'area del Monza bene o male cioè non si è mai vista ha fatto un tiro altissimo in versione oratorio il colpo di testa e il tiro alto su quattro occasioni due c'è lui in aria il tiro alto era un tiraccio sì no ma è vero che è un tiraccio però poi voglio dire non lo so sul tiro alto può fare decisamente meglio no ma sicuro può fare meglio io dico stiamo valutando se gli dai 5 una volta non è che ti cioè no no stiamo valutando il pittorio alla tessera dell'ordine questo stavo dicendo Paolo che ieri quando parlavamo della Juve Nico González ha fatto un brutto primo tempo e io dicevo ricordate che ha giocato martedì è tornato giovedì cioè gli argentini soprattutto hanno giocato in Colonia si tratta solo di valutare la prestazione io credo che siamo al primo tempo poi è chiaro che tu Michi dici domani mattina trovi 6 e mezzo 6 e mezzo no no ma io se finisce 0 a 0 e lui fa come il primo tempo a me 5 e mezzo a fine partita scende io credo che Lautaro non sia nel periodo suo migliore perché anche nella secondo me bellissima partita fatta con l'Atalanta lui è stato un po' fuori sì sì ma perché non è più quanti gol ha fatto finora no 0 però la prima non l'ha giocata la seconda non l'ha giocata un capo cannoniere come lui sì no no però io stavo dicendo stiamo valutando il primo tempo sulle insufficienze siamo d'accordo sarei stato ripeto come dice Paolo per le aspettative che ti dà Lautaro mentre Carlos Augusto oppure Aslani è quella roba lì e quindi non lo vuoi magari penalizzare però Lautaro io dà Lautaro mi aspetto di più è sempre di punto di storizzazione è come quando Giudice Leao soprattutto paragonato a Turam devi essere severo con quei giocatori lì paragonato a Turam sono i più bravi tra i due stasera e quello che si è dato più da fare è Turam sì sì ma sicuramente no però paragonato a Turam Turam secondo me leggere insufficienza pure lui ha fatto male tutte e due ha corso un po' di più ha preso un po' di più ma infatti non è anche Turam cosa ha fatto gli unici che ha fatto bene sono i suoi sulla catena di sinistra e i tre difensori di Pavard che ha attaccato molto però diciamo che bisogna cambiare sicuramente passo ritmo passo bisogna essere più veloci e tirare da fuori un po' perché in effetti non si può pretendere sì però c'è da dire che Cialanoglu non lo so se entra Cialanoglu perché Cialanoglu ha fatto allora prima è uscito male con l'Atalanta è andato in nazionale si è allenato a parte fino alla prima partita ha fatto 20 minuti la seconda ha fatto solo il primo tempo e ci sono City e Milan secondo me oggi il piano è di risparmiarlo io spero che vada avanti zero lo mette dentro oggi lo risparmi lo risparmi se la partita è forte lo risparmi se la partita si incanara in una certa direzione se no sei quasi per forza costretto a metterlo dentro sì no però mette dentro magari chi fisicamente sta meglio se al sessantesimo settantesimo la partita fosse ancora solo 0 a 0 ti dico i cambi sono quelle cose sono per dentro cambia allora Dunfris entra Varella entra Zelisky secondo me ma Zelisky allora ragazzi Zelisky entra devi avere grandemente dalla tua i risultati cioè nel senso allora perché ti spiego una cosa quando le cose van bene i giocatori dicono vabbè ha avuto ragione l'aleatore ma Zelisky non ha ancora fatto un minuto cioè fondamentalmente è un giocatore importante poi sicuramente lui lo vede ok tutta la settimana anche lui però la prima partita era indisponibile la seconda stava così così andrà però da qui a non fare neanche un minuto da Inter Atalanta lui stava che poteva giocare benissimo poi adesso il nazionale ha fatto il regista per due partite con la Polonia ecco quindi era che stava proprio così male tu da allenatore l'hai detto lui lo vede se non lo fa giocare no ma aspettate 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 perché Zelisky oggi avrebbe potuto giocare e salta l'occasione per lui perché Cialanoglu non è al 100% altrimenti avrebbe fatto Fratesi Cialanoglu Zelisky non voleva cambiare tutto il centrocampo Fratesi oggi che lo doveva proprio il posto Aslani è più una necessità e quindi non voleva cambiare tutti e tre Mkhitaryan è prezioso verosimilmente magari Zelisky per Mkhitaryan nel secondo tempo è assolutamente legittimo però non sono molto d'accordo in questa situazione perché per giocare con le tre punte le tre punte devono stare bene e Lautaro fisicamente non mi sembra per niente brillante come avete detto anche voi quindi tutto agli arresti Lautaro triplo cambio triplo cambio eccolo qua Zelisky che entra Dunfris allora Dunfris-Darmian mi sembra abbastanza scontato Mkhitaryan-Zerisky anche e poi Lautaro-Daremi quindi tutti e tre scontati niente tre punte no no sono contento così perché non ha non ha senso sbilanciare la squadra tatticamente adesso perché stai comandando la partita devi solo essere più qualitativo quindi fuori Darmian Mkhitaryan e Lautaro-Martinez queste sono le scelte giusto di Simonin Zaghi che butta nella mischia Taremi Zelisky e Dunfris quindi ruolo su ruolo precisi esatto però cambiano gli interpreti quindi fuori un Mkhitaryan che abbiamo visto abbastanza spento debutto per Zelisky siamo tutti curiosi di vederlo Taremi deve prendere l'eredità di Lautaro-Martinez spiace dirlo ma il capocaroniere dello scorso campionato ancora zero gol quest'anno sì ma l'ho detto dal 28 febbraio ha segnato solo un gol in campionato e poi comunque mi aspettavo Dunfris perché in effetti l'Inter dal lato di Di Marco è stata molto pericolosa di qua invece tre cambi che avevamo chiamato perché avevamo detto Dunfris Zelisky e Taremi devono entrare e sono entrati ma è giusto così un turno del ragionato è un minuto di cambi un po' anomalo perché un po' in anticipo perché la pista evidentemente anche sembra una sciocchezza ma questi quattro minuti di anticipo rispetto allo standard di Dinizaghi segnalano che non gli piace quello che sta bene insomma che lo stesso allenatore dice che ci abbiamo un po' i cambi che possono tornarmi utili questi quattro minuti in più no ma poi ci sta sono tutti i cambi giusti oggi Michi Itali hanno detto andava piano andava piano poi non devi giocare partite importanti l'Inter ha una rosa che non devi avere nessun timore di togliere questo mettere quell'altro perché meritano comunque tutti possono fare la differenza lo stesso Zelisky anzi Zelisky per esempio ha il tiro ripeto ha il tiro chissà che oggi non voglia fare un bel esordio in maglia non nera azzurra ma giallonera ma comunque con l'Inter perché è un giocatore di grande qualità di grande qualità Zelisky anzi secondo me forse può ancora a 30 anni fare un ultimo step perché lui ha grande qualità però magari non ha quella cattiveria agonistica che in una squadra magari come l'Inter può anche migliorare perché no prossime mosse se si giocherà il doppio cambio pronti via oppure se si tiene un ultimissimo slot e mette dentro il quarto cambio secondo me sarà indicativo di Inzaghi se preferisce mettere dentro l'energia di Barella Marnatovic di punta non lo so sale Pavard bisogna cercare più Dunfriss lo fa Pavard ora Dunfriss alza la testa cross respinto in fallo laterale bisogna cercare di più Dunfriss perché è fresco mentre Di Marco magari inizia a accusare un po' la stanchezza anche se ha tecnica e qualità entrano tutti e due Arnautvic e Correa quindi esce Turam che stava giocando male un fantasma dell'opera esce Aslani e l'abbiamo detto perché Aslani alla fine è una prestazione sempre più timida nel secondo tempo è calato ancora un po' e quindi 2-2 dice Arnautvic quindi Arnautvic Taremi Correa quindi Correa trequartista dietro io credo non lo so perché anche Taremi ha più il colpo potrebbero essere no ma non è Correa comunque sia un Inter che chiude col tridente ma tridente sì sicuramente tridente poi vediamo tra Correa e Taremi sicuramente Arnautvic più avanti Arnautvic più avanti no Taremi ha giocato spesso seconda punta in nazionale per esempio con una scuola attenzione di Marco il tiro Arnautvic ancora il tiro fuori dell'Inter che finalmente almeno tira verso la porta poi palla fuori ancora Pavani ci ha provato uno dei più intraprendenti dall'inizio della partita lo diciamo ora si gioca tutte le carte in Zaghi comunque Michele tolto Aslani l'unico che poteva raccordare le linee era Correa dietro le punte quindi evidentemente c'è la Nogo non sta venire però io ripeto adesso vediamo ho dei dubbi su chi va a fare il tre quartista però magari è Correa rispetto se tu metti tre centrocampisti stai facendo fatica a fare gioco metti tre centrocampisti che nessuno di tre ha proprietà di palleggio Varella Zilinski e Frattesi come fai a creare gioco se già c'è l'anno della difficoltà Zilinski e Varella possono farlo possono farlo tutti comunque giocano Correa sulla sinistra Taremi un po' più sulla destra e Arnautvic al centro quindi è un 3-4-3 diciamo è una grossa chance per Correa che si riaffaccia con la maglia dell'Inter dopo un anno però anche lì tu devi chiedere di togliere le castagne dal fuoco a uno che l'hai considerato attenzione palla in mezzo per Giuric palla che attraversa l'aria piccola esce dall'altra parte però se c'è un allenatore che ancora poteva riproporre Correa era proprio Inzaghi però a Genova non la ha sempre cercato di renderla no no l'Inter sì però Inzaghi ha spinto per avere cinque punte cioè lui la domanda sì voleva Gudmundson però no certo pure al posto di Arnautis però dico tra Correa o rimanere con quattro lui ha sempre detto no cinque con Correa per me meglio di quattro e infatti oggi lo mette perché vuole giocare con le tre punte quando l'Inter la deve sbloccare speriamo che insomma anche un po' d'orgoglio di Correa è anche un po' la mosso della disperazione questa di Inzaghi perché con tutto il rispetto se vai a pescare dalla panchina barra dalla naftalina Correa è perché in questo momento hai utilizzi tutte le gambe non hai altre risorse cioè sei un po' costretto oppure hai Ciananoglu e Barella che non sono più però ragazzi per giocare con le tre punte ne ha messe tutte cinque lui se vuole attaccare li utilizza tutti l'aveva detto che sarebbe arrivato il momento anche di Arnautis che Correa serve per raccordare le linee per creare un po' più di inventiva che non c'è però nel momento in cui Ciananoglu stava bene entrava Ciananoglu anche a costo magari di fargli fare 20-25 minuti ma con un Ciananoglu che sta discretamente bene Correa non gioca mai attenzione Arnautovic proprio per Correa che la dà bene nello spazio per Carlos Augusto esce Turati che la toglie dei piedi un po' troppo lungo il filtrante che non era male ora può partire in contropiede però c'è fallo su Zelischi che rimane a terra Giuric che protesta su Pairetto ma mi sembra che il fallo sia abbastanza c'è di da un colpo in testa non magari tanto volontario vediamo invece l'occasione di prima è sempre stato battuto velocemente pensavo ci facessero vedere l'occasione di prima l'Inter secondo me l'ha sbagliato perché non era difficile Carlos Augusto era solo era venuto in mezzo gliel'hanno data troppo lunga sul portiere ora Zelischi a sinistra per Di Marco il cross di Di Marco proprio sull'uomo Pedro Pereira che respinge quindi palla in pallo laterale e ora Arnautovic e Correa devono dare un senso alla loro presenza nella rosa dell'Inter dai ragazzi in calcio d'angolo Zelischi la palla è uscita sul fondo quindi Zelischi crossa e poi Izzo in calcio d'angolo ancora una volta però qua non era andato nessun giocatore dell'Inter sul primo palo cioè i due saltatori Arnautovic e Taremi uno va da un palo e l'altro va dall'altra parte Di Marco ancora all'indietro per Zelischi che la ridà Di Marco Di Marco ancora all'indietro per Zelischi sono tutti nell'area cross di Zelischi a chi? a chi? fortissimo! attenzione a queste partite attenzione a queste partite qua Izzo il cross deviato pericolo colpo di testa e gol del Monza e vai gol del Monza e te pareva il gol del Monza con Dani Mota Carvaglio di testa e queste sono le partite che vanno così se non sei cattivo ti puniscono alla prima palla gol il vantaggio del Monza con Mota Carvaglio doccia gelatissima per l'Inter a sei minuti più recupero dalla fine Inter che adesso deve per forza di cose gettarsi in avanti calcio d'angolo per l'Inter adesso calcio d'angolo colpo di testa di Dunfis deviato da Turati era centrale però per non rischiare la buttata in angolo ancora calcio d'angolo per l'Inter all'ottantaquattresimo palla in mezzo anticipato anche Taremi e ora l'Inter deve riversarsi in avanti e non sbagliare ancora come ora rischia di fare Di Marco che però è bravo a darla a destra è saltato su Pavard che aveva fatto una buona partita però Dani Motacarvaglio è entrato ha fatto un bello stacco e ha segnato esatto ricordiamolo il cross al centro di Izzo mi pare con Dani Motacarvaglio che è saltato sopra la testa di Pavard decisamente insufficiente la difesa da parte del francese ma molto bravo bisogna dire Motacarvaglio una bella inzuccata sul palo lontano tecnicamente nulla da dire molto bravo un terzo tempo perfetto è saltato anche su inizio in precisione quando tiravamo coraggio al Monza è il bracetto che va al cross però deve stare Correa lì sulla sinistra adesso non voglio sparare sulla croce rossa però sei entrato sei fresco non fai salire il difensore che ha fatto tutta la partita addirittura testa alta guarda al centro ha tutto il tempo per crossare sei entrato non si sa come sei rimasto all'Inter entri e bruci l'erba in 20 minuti corri dappertutto ora ha monito forse proprio Dani Motacarvaglio sì proprio lui che protesta Pairetto dice no il pallo c'è adesso devi fare l'impresa per andare a pareggiare una partita che già insomma pareggiando sono sempre due punti in meno ma qua stai proprio perdendo e devo dire che a me dispiace perdere la partita però l'Inter se l'è cercata oggi se l'è cercata proprio fino adesso se l'è cercata poi 5 minuti più recupero nel calcio possono succedere tante cose crederci tutti a saltare in aria di rigore c'è Dunfriss c'è Taremi c'è Arnautovic calcio di punizione 86esimo minuto tutti a saltare la linea del Monza tutti in linea palla al centro spizzata che però non arriva nemmeno nell'aria piccola perché la palla attraversa tutta l'aria esce dall'altra parte quindi può ripartire il Monza attenzione dritto per dritto questo pericolo perché Di Marco è stanco e allora arriva il Monza e poi Di Marco riesce miracolosamente a recuperare questo pallone gran giocato di Di Marco è questa diagonale perfetta all'87esimo minuto è riuscito a tenersi dietro il giocatore del Monza dopo che si è fatto tutta la fascia per tutta la partita questo Di Marco veramente incommiabile da questo punto di vista credo per quanto mi riguarda l'unico forse che salverete l'Inter di stasera poi Bianco che era anche fresco infatti ho temuto quasi davo per scontato che andasse Bianco in velocità invece Di Marco generosamente che ora mette ancora un pallone in mezzo dai quando non si può vincere almeno pareggiare forza ragazzi ora Di Marco la palla che gli rimbalza sulla schiena è proprio stremato Di Marco infatti la palla gli rimbalza addosso e va in pallo laterale per il Monza Di Marco non ce la fa più Di Marco e ci credo vabbè e ci credo ha fatto questa rincorsa non era facile è stato veramente generoso si ha dato tutto proprio con il cuore proprio da generoso speriamo adesso anche che non possa risentirne dal punto di vista muscolare perché quando vai oltre diciamo l'energia no però mi sembra camminare bene perché si stava un po' disperando era più per il risultato non per problemi vari ora Zelischi viene atterrato però la palla è ancora all'Inter allora c'è il vantaggio con Taremi che deve ragionare la dà Correa Correa a sinistra per Carlos Augusto che alza la testa la palla in mezzo è buona per Dumfries e gol di Denzel dai ragazzi crederci Dumfries il crosta a sinistra è arrivato come un treno dall'altra parte non c'era Arnautovic al centro non è una novità ma arriva Dumfries e questa anche non è una novità che spesso risolve le castatoglie le castagne dal fuoco l'ha fatto anche in nazionale in Olanda Germania 2 a 2 si fa trovare al posto giusto l'olandese volante la mette dentro 3 minuti più recupero un Inter che la riacciuffa clamorosamente era sotto però ripeto non aveva fatto quasi niente oggi per vincere la partita siamo 1 a 1 siamo 1 a 1 e adesso nel finale si proverà si deve provare a vincere forza ragazzi il cross di Carlos Augusto e la zampata vincente di Denzel Dumfries che anticipa il diretto marcatore e appoggia da 2 metri in rete per il pareggio dell'Inter partita che si è accesa proprio a livello di gol proprio negli ultimissimi minuti qualche istante fa il gol del vantaggio del Monza con Mota Carvaio e adesso il pareggio dell'Inter che ha 2 minuti più recupero recupero che credo sarà tra i 4 e i 5 minuti super giù non ci sono state grandi interruzioni ci sono stati due gol non ci sono stati Varma ci sono state tante sostituzioni quindi credo Ezio dovrebbe essere tra i 4 e i 5 mi immagino più o meno penso quindi c'è tempo per l'Inter per andare addirittura a vincere dopo essersi trovata sotto qualche minuto fa 1 a 0 adesso invece l'inerzia torna dalla parte nell'azzurra fallo ora per l'Inter conquista una punizione Chie Correa che conquista una punizione sulla destra perdono un po' di tempo i giocatori del Monza sulla palla Inter che conquista finalmente la possibilità di battere questa punizione però intanto i giocatori sono tornati tutti in aria c'è ora da andare a saltare tutti a saltare in aria di rigore a un minuto dalla fine batte Zelischi bisogna trovare l'insuccata giusta dai Arna Arna Arnautovic Astronautovic come ti ho chiamato spesso l'anno scorso facci vedere un po' la luna ancora Di Marco che gira palla per Carlos Augusto un generoso Carlos Augusto che ha fatto una bella partita tutti in aria e poi la impreziosita con questo assist ora Di Marco che allarga anzi la mette in aria Campanile attenzione qua fallo per il Monza ma trattenuti tutti e due qua Dunfris che ride un po' dice sono ammonito meglio che mi sto zitto però la voglio rivedere anch'io la voglio rivedere mi sembrava l'avessero accompagnato gentilmente a terra però Pairetto non la pensa così ha dato la punizione al Monza il tempo stringe 30 secondi di solito questo è sempre farlo dell'attaccante solitamente quando ci sono tutti si appraccia ne vanno a terra tutte e due insomma solitamente viene punito l'attaccante e premiato il difensore cosa che effettivamente è successo mancano 10 secondi al novantesimo e poi scopriremo l'entità del recupero vedo adesso nel play or the match Panini tre giocatori del Monza uno dell'Inter è Aslan hanno visto la partita o no? penso di no penso che abbiano sparato nel mucchio abbastanza 4 minuti 4 minuti 4 minuti di recupero di speranze per l'Inter per vincere questa partita era diventata insalitissima all'ottantunesimo con il gol di Dani Mota Carvaglio poi le speranze si sono riaperte all'ottantottesimo con il gol di Dunfis l'assist di Carlos Augusto e ora l'Inter che si deve riversare in avanti per questi ultimi 180 più 40 220 secondi 220 secondi di speranze però dai andiamo in aria con Cattiveria Correa che cincischia ancora a centrocampo palla lunga palla lunga si può fare non è vietato dai ragazzi Di Marco sulla tre quarti ancora Federico Di Marco che la mette in mezzo ci sono 2-3 attaccanti il velo attenzione in aria si libera Frantesi che lascia partire un sinistro altissimo mamma mia Davidino era la tua partita anche questa non battere peccato perché si era liberato molto bene sul sinistro che però magari non è proprio il suo piede intanto ci fanno vedere la posizione regolare di Carlos Augusto sul gol di Dumfries in partenza sul cross era posizione regolare ma vogliamo vedere adesso la diretta c'è infatti Turati che sta mettendo a terra la palla per rinviare perde tempo ovviamente ci sta perché è preziosissimo ogni secondo per lui meno di tre minuti ormai al termine 4 di recupero peccato questa era un'occasione per l'Inter Frantesi si era incuneato in aria spesso segna negli ultimi minuti ricordo l'anno scorso a Udine ma anche col Verona col Milan insomma questa è la zona Frantesi vediamo se ci riesce anche stavolta Correa lungo linea per Arnautovic Arnautovic da sinistra si deve girare Arnautovic se la porta sul destro mettile in mezzo Arna mettile in mezzo lascia Zelischi che forse mette in mezzo meglio di lui palla al centro respinge la difesa Zelischi deve arrivare primo sulla palla se la porta sul destro lo carica respinta dalla difesa ora riparte il Monza in contropiede pericolo Danimo da Carvaglio che sta bene e fresco va in velocità sulla sinistra Zelischi rinviene su di lui uno contro due ma c'è anche Bondo al centro non alza la testa Danimo da Carvaglio che si fa tutto il campo ora la dà all'indietro saggiamente tiene la palla ora Pessina che la può governare va all'indietro Carboni il Monza gestisce questo momento di gioco dove l'Inter deve rifiatare per fare l'ultimo assalto l'ultimo assalto ma mancano solo 120 secondi che diventano 115 poi 110 recuperare palla se no non si arriva di là e allora c'è Izzo che la fa girare alza la testa il lancio lungo nella terra di nessuno per lui c'è Di Marco e quindi l'Inter ha questa ultima penultima occasione dai almeno una ce n'è inizola recapitata gentilmente le gambe di Di Marco attenzione il corpo di testa di Arnautovic che la mette per Taremi l'arbitro non fischia c'è un giocatore del Monza a terra riparte proprio il Monza con Giudic l'Inter può recuperare palla con Di Marco che la deve prendere la prendere la prende generosissimo Federico Di Marco la mette in mezzo era quasi buona ora c'è Taremi in aria di rigore sul sinistro marcato da tre ancora Di Marco che la mette sul palo lontano no troppo corta il Monza fa densità al centro dell'aria e quindi può ripartire ora tiene palla stanche tutte e due le squadre non è che hanno corso tantissimo però il Monza guadagna una punizione che dovrebbe essere la punizione del finale di partita che Diacopolo sa anche i crampi Pavard che si dispera perché su di lui dopo una bella partita esatto ma io non ho neanche sottato il gol il figura vedete inizio come ha crossato c'è un difensore che avanza solo solissimo nella metà il gesto tecnico di Dani Motacarvaio tanta roba bellissimo veramente bellissimo è saltato in aria proprio alla Cristiano Ronaldo molto molto bello molto bello devo dire così com'è l'inserimento di Dumfries per tempi di gioco assolutamente perfetto 25 secondi la faccia di Gagliani in trans l'ultimo possesso del Monza con Dani Mota che è scatenato la sede a Bondò in un'azione rugbystica attenzione di Marco ma cosa fa? no ha fischiato cosa ha fischiato? ha fischiato il fallo l'ha persa stanno andando in porta guarda bene ha fischiato e quello là si è trovato da solo perché si sono fermati non esageriamo vi ricordate non esageriamo guarda bene l'immagine che l'arbitro fischi anziché dare il va ragazzi l'azione va fatta a finire però fischi fischi hai fatto la cavolata fischi allora l'unica cosa Riccardo che posso dire è che Di Marco ha sentito il fischio e si è fermato però secondo me Di Marco anche se non si ferma l'immondo Pavarra ha monito ha dato una punizione non dimentichiamoci che su questo campo c'è stata una situazione simile io la rivedrei io la rivedrei adesso c'è il calcio di punizione per il Monza e poi finirà la partita guarda bene non attacchiamoci a tutti i gappini l'ultima occasione per il Monza ma poi su questo episodio bisognerà tornare ma tu devi guardare le immagini prima poi le rivedremo con calma e con pazienza poi ce le rimostreranno perché è un episodio sicuramente importante punizione Monza e poi credo sarà finita punizione Monza l'ultimo pallone del match ce l'ha in Monza incredibile sull'1-1 è così e l'Inter ha rischiato tantissimo ma Pairetto ha fischiato così una punizione col Monza che attaccava Fessina attenzione il tiro alto sopra la traversa finisce la partita degnamente cioè indegnamente una partita veramente bruttissima lentissima con valori tecnici bassissimi si abbracciano Inzaghi e Nesta è finita 1-1 credo sia forse anche giusto allora eccola qua la notizia della serata ragazzi è che l'Inter perde la testa della classifica che vede una sola squadra al comando ed è il Napoli di Antonio Conte che dopo aver perso la prima di campionato malissimo contro il Verona ne ha inanellate tre di fila contro Bologna Parma e questa sera 4-0 a Cagliari il Napoli è da solo in testa alla classifica dopo per carità soltanto quattro giornate di campionato ma sicuramente si presenta da capolista settimana prossima c'è Juventus-Napoli e c'è Inter Milan quindi un weekend clamoroso veramente pazzesco escono un po' arrabbiati di giocatori dell'Inter delusi sicuramente più che arrabbiati forse per la prestazione sicuramente noi ne parleremo siamo curiosi di vedere quell'ultimo episodio perché c'è stato un po' da ridire Ezio un fischio assolutamente affrettato deve lasciare continuare l'azione vedere che c'era un vantaggio grosso come una casa e ha farmato un uomo che stava entrando in area da solo però quelli del Monza non hanno protestato tanto non hanno protestato forse perché non avevano più fiato però ragazzi il giocatore del Monza ha protestato Capannello attorno all'arbitro sicuramente perché effettivamente dal loro punto di vista volevano il vantaggio è certo volevano assolutamente il vantaggio le disposizioni sono quelle aspetta aspetta c'è da dire che poi la rivedremo però per vedere almeno da quello che ho capito io allora c'era Di Marco e Bondò però Di Marco stremato e Bondò che arrivava come un treno quindi netto diciamo favorito l'inserimento ha fischiato ha fischiato ben per l'Inter però secondo me Pairetto è un arbitro che insomma non è la prima volta che fa errori clamorosi per esempio Riccardo ricordava ma lì era Sacchi che fischiò una cosa simile proprio a Monza due anni fa era il 3 a 1 dell'Inter a 7-8 minuti alla fine annullato perché il VAR non può più intervenire perché ha fischiato prima del colpo di testa di Acerbi non c'era niente in area lui aveva visto un fallo l'ha visto solo lui poi il Monza pareggiò con Caldirola all'ultimo minuto e finì 2 a 2 poi non sapremo mai come sarebbe finita l'azione perché magari quell'uomo davanti al portiere io vi invito a rivedere le immagini e il fischio dell'arbitro non traete conclusione affrettate Di Marco si è piantato appena Pairetto ha fischiato Di Marco si è piantato almeno guardiamo le immagini sì ma non deve ma non deve fischiare ma non deve fischiare quella situazione aspetta al proseguo dell'azione e vedi dove va a finire il pallone guarda bene le immagini però vogliamo di Marco fermato che sicuramente se si è fermato se tu fischi allora ha dato più luminosità diciamo all'occasione ma di fatto era comunque un'occasione anche se Marco fosse rimasto in gioco certo adesso guardiamo le immagini poi se c'è l'errore di Pairetto diremo che errore di Pairetto ma a me è sembrato addirittura che l'avesse toccata anche una dell'Inter sì il problema è che stanno indugiando sui due gol molto belli abbiamo già visti rivisti e stravisti il problema è che c'è quell'immagine perché poi ovviamente c'è stata la punizione finale la partita è finita le immagini sono tornate poi ovviamente in presa diretta non abbiamo potuto vedere questa cosa che insomma ci fa venire un po' il dubbio sulla bontà della scelta di Pairetto poi magari tutto giusto abbiamo visto noi una cosa sbagliata non lo so però ci piacerebbe rivederla anche per poi fornire a casa un servizio più adeguato per poter descrivere in maniera più corretta e più completa quello che effettivamente è successo ha sensazione a molti nello studio è sembrata frettolosa la scelta di Pairetto di interrompere l'azione tant'è vero che i giocatori del Monza hanno fatto capannello attorno a lui per dire ma perché non ci è dato il vantaggio se era vantaggio e avevamo l'opportunità di tirare in questi casi la regola non scritta è che tu debba far finire l'azione esatto se il vantaggio si concretizza torni indietro e dai la punizione quindi ammonisci il giocatore ma aspetta di vedere quello che succede perfetto ci sono dei dati Francesco che fotografano bene la partita c'è 16 tiri a 4 per l'Inter e 8 calci d'angolo a 1 ma importa che è quello che conta da 2 a 2 ma 2 a 2 dove i portieri non è che sono parate che ricordiamo c'è una partita a scialba era forse 0 a 0 il risultato più degno però non gli voglio togliere a Dani Modacarvaglio i meriti è stato premiato anche migliore in campo da subentrato ha fatto uno stacco di testa alla Cristiano Ronaldo merita quindi il premio e poi adesso faremo gli up and down quelli dell'Inter che si sono salvati secondo me sono veramente due o tre li metto tutti negli up mi gioco tutte le cartucce degli up dei tre e poi ci sono tanti invece che vanno giù ma soprattutto va giù l'atteggiamento come dicevo all'inizio del secondo tempo è difficile quando non entri con la spina attaccata puoi cambiare registro le partite non si vincono perché hai non so Mbappé o Vinicius l'Inter è una squadra che gioca sempre la partita per vincerla se entri in campo pensando che da sola si sblocca da sola non si sblocca 1 a 1 allo U Power Stadium con l'Inter che è riuscita a rimetterla in piedi grazie ad Unfris dopo il vantaggio di Mota Carvaio sicuramente grande delusione in casa Nerazzurra non tanto per il risultato o non solo per il risultato in sé quanto per una prestazione che ha lasciato abbastanza perplessi tifosi e commentatori in generale allora come detto partiamo con gli up and down Michele chi sale chi scende dell'Inter allora i tre che salgono sono senza dubbio credo sia abbastanza oggettivo Di Marco che è stato veramente generoso spesso diciamo che cala la distanza qua invece anche alla fine ha fatto un salvataggio su Bianco e si sta mettendo male e anche se vogliamo sulla palla che ha fermato l'arbitro alla fine era l'unico che era ancora in gioco quindi Di Marco 7 così come Do 7 ai due protagonisti del gol a Carlos Augusto che ha fatto fase difensiva fase offensiva fase difensiva fase offensiva bene e poi Dumfries perché secondo me poteva entrare anche prima in queste partite con le piccole ha una forza fisica poi sbaglia tecnicamente però succede sempre qualcosa in aria la sponda la spizzata l'inserimento e uno di questi inserimenti guarda caso ha portato al gol quindi 7 tutti e 3 di Marco Carlos Augusto Dumfries che uno a vedere così dice ah però l'Inter ha giocato bene sono dei 7 per prove individuali prova collettiva dell'Inter pure sotto il 5 come squadra per quanto riguarda quindi le insufficienze dove c'è l'imbarazzo della scelta vado di più perché mi dà un po' fastidio sentire alcuni commenti già che leggo un po' in giro quando cambi titolari no sono i titolari che devono trascinare quelli che subentrano e quindi do 5 soprattutto i titolarissimi tipo Lautaro 5 Mkhitaryan 5 come nel primo tempo tra l'altro sono i miei giocatori che apprezzo tantissimo non è che ce l'ho con loro però oggi Mkhitaryan al piccolo trotto e Lautaro veramente troppo sotto tono poi è uscito giustamente sono nettamente insufficienti poi ho detto ce ne sono tanti altri c'è Turam non è che si è salvato però come terzo metto Aslani ecco perché tra quelli che invece dovevano dare un segnale per essere presi di più in considerazione ecco Frattesi magari non ha segnato però il tiro fuori l'inserimento di sinistra alla fine comunque lo vedi Aslani sempre calma calma ma calma cosa se 0-0 sta finendo la partita calma tutta la partita calma addirittura qui lo volevano premiare è stato coerente e quindi com'è? è stato coerente è stato calma non so troppo calmo mettiamola così lo specchio dell'Inter quindi 5 pure per lui quindi 3-5 Lautaro Michi Darian Aslani però ce ne sono tanti altri tra il 5 e il 5 e mezzo vedi Turam non si salva Pavar perché alla fine ha fatto una bella partita ma ha fatto saltare Danica e Moda Carvaglio Correa che è entrato è riuscito in 10 minuti a fare male perché Suizzo deve rinvenire lui a sinistra e non c'è proprio mentre mi è piaciuto anche Zelischi che può uscire su quello Zelischi qualitativamente ha fatto pure lui poco Zelischi proprio uscire lui su Izzo non è che necessariamente ti dico Darian per esempio anonimo completamente se parliamo di Torari però Darian quando è anonimo non fa errori almeno ragazzi ma che errori vuole fare? hai tenuto la palla a tu 90 minuti o 45 minuti non fa crossare se fosse stato dalla parte di Darian non crossava sicuro Izzo da solo invece Izzo con tutta la tranquillità alza la testa nel finale di partita ti hai subentrati oltre a tutti Correa quantomeno dà il filtrante per Carlo Soguso ti sottolineo questo ti sottolineo questo ho capito una cosa può pure riuscire però c'è da dire una cosa Paolo che come dire si torna sempre su questo vecchio principio se non gioca l'Inter dei titolari quando cambi due tre pedine specialmente nei ruoli chiave e in questo caso segnatamente nel centrocampo con Frattesi che peraltro non ha neanche fatto malissimo ma soprattutto togli c'è un ogolo da questa squadra tieni palla per tantissimo tempo però la tieni senza costrutto cioè è un Inter che è stata un po' insipida da questo punto di vista non c'erano sostanzialmente fino alla fine c'erano Oglo e Barella perché poi alla fine li ha alternati tutti però cioè l'Inter e altre squadre come l'Inter sono state dichiaratamente costruite con rose lunghe anche per gli impegni internazionali mondiale per club Champions con più partite quindi secondo me questo discorso va un po' rivisto è vero che i giocatori che sono partiti dall'inizio non titolare e quelli entrati dopo hanno sostanzialmente deluso tutti tranne Dumfries che poi è entrato e ha fatto bene e secondo me anche Frattesi non ha fatto tanto male non c'è la controprova che con Ciaranoglu e Barella questa sera avresti magari portato a casa la partita devo dire che il risultato è giusto all'Inter ha tirato pochissimi in porta due volte come il Monza e ha segnato nell'unica distrazione difensiva del Monza che comunque non mi è piaciuto cioè a me non piace questo tipo di calcio però le ha servito per fare un punto importante però hai visto che quando ha osato ha dato anche fastidio forse con un po' più di coraggio però è stata molto attenta difensivamente tranne in quell'azione del gol subito e beh sai l'Inter esce un po' ridimensionata alla luce dei prossimi impegni alla luce di questa etichetta di squadra ancora favorita per rivincere lo Scudetto è stata una domenica sostanzialmente con il marchio Napoli perché noi stiamo parlando dell'Inter ma non dimentichiamo che ha deluso in un altro tipo di partita anche la Juve ieri e quindi insomma due pretendenti importanti per la corsa Scudetto si sono fermate dando strada al Napoli che invece è sembrato in crescita e più convincente rispetto alle due Ricci da interista deluso stasera perché eravamo partiti anche bene secondo me abbiamo snaturato un po' poi il gioco si è snaturato anche in zaghi un attimino perché quel doppio cambio con Re Arnautovic in effetti ha forse confuso le idee più che darle però evidentemente Cialanogo e Barella non erano in condizione per fare questo tipo di partite se giochi in questi campi con la con la supponenza di dire che prima o poi fai gol e la vinci sicuramente sbagli l'hai riacciuffata perché comunque tenata bene sta di fatto che siamo sotto ritmo si parla di Aslani che non prende in mano il centrocampo eccetera ma io mi preoccupo anche di una condizione psicofisica di Lautaro assolutamente cioè Lautaro Martinez oggi non ha toccato praticamente non ha giocato a calcio come non aveva giocato con l'Atalanta quindi sai forse è vero Aslani è giovane ha bisogno di tempo eccetera però non ha sbagliato solo Aslani ha sbagliato quelli che dovevano fare la differenza Mkhitaryan per esempio non è stato il solito Mkhitaryan e poi mi spiace dirlo ma Pavard si è perso l'uomo sul gol quindi una serie e Pavard non è Aslani Pavard è un giocatore che a livello internazionale ha esperienze eccetera è vero perché poi dici Aslani te la prendi con Aslani però credo che comunque nel complesso sia stata una partita anche un po' faragginosa anche Inzaghi secondo me ha fatto un po' di confusione però portiamo a caso a questo punto che alla fine è un punto guadagnato poi alla fine se vuoi essere però il turnover serve proprio per queste cose perché evidentemente Lautaro non aveva i 90 anni le gambe ed è entrato Taremi il mezzo purtroppo c'erano Ghebarella oggi non ce l'avevamo anche se comunque anche a Genova c'erano Ghebarella non è che abbiamo vinto 5-0 il discorso di Lautaro è un discorso interessante ti chiedo Marco da allenatore quanto è preoccupante la situazione di Lautaro ma non tanto per il fatto che Lautaro non segni perché Lautaro i gol li fa e li farà sempre ovviamente però se noi andiamo a ripercorrere siamo a metà settembre l'ultimo mese di Lautaro gli ultimi 40 giorni diciamo di Lautaro Lautaro è l'ultimo a arrivare in ritiro l'idea è quella di dirgli fai un po' di lavoro per poi eventualmente essere pronto per venire in panchina la prima di campionato a Malassi contro il Genoa cosa succede? che si fa male Taremi e a quel punto gli dicono guarda non è più da andare in panchina lavora perché giochi titolare e allora di fatto Lautaro gioca titolare sempre perché è costretto a giocare titolare perché dietro il compagno non sta bene poi Taremi recupera ma non ha i 90 minuti e poi si rompe anche Francesco perché la seconda si fa male poi si esatto gli viene un affaticamento fa tempo a recuperare dall'affaticamento e poi comunque va a farsi due partite in nazionale con l'argentina cioè a livello di carico di lavoro questo cambiare la tua tabella di marcia e di preparazione in vista dell'inizio del campionato quanti problemi ti crea ma allora c'è da dire una cosa scusa Marco lui gioca a Genova senza preparazione praticamente appunto ma ha maggior ragione lo butti nella mischia dicendogli devi giocare con 15 giorni fermo secondo me non è tanto una mancanza di lavoro alle spalle che ha fondamentalmente arriva a stanco la Coppa America perché se non sbaglio è stato fermo 15 giorni Lautaro dopo la Coppa America giustamente è andato in vacanza 15 giorni non ci mancherebbe 15 giorni se noi pensiamo all'infortunio di un giocatore 15 giorni rientri se è più o meno in condizione rientri diciamo che secondo me Lautaro non ha avuto una stagione stressante con l'Inter ha giocato tantissime partite arriva in Coppa America ci arriva in fondo vince non arrivi né col lavoro né con la motivazione giusta è sempre un lottatore ci imprega tanto però di fatto è uno dei peggiori Lautaro che abbiamo visto fino adesso c'è un caso Lautaro non segna ma lavora anche poco per la squadra io sono qua a criticare due giorni due volte che vengo nelle ultime settimane sia Inter-Atalanta che in questa partita prendevamo in giro Michele e gli criticavamo il fatto di non essere abbastanza severo non c'è mai capitato di dover essere così severi al di là del rinnovo con Lautaro ma Lautaro non è non ha avuto tempo di riposare mentalmente non ha avuto tempo di ricaricarsi non ha avuto tempo di lavorare è una condizione la gestione secondo me a quel punto deve essere al di là di Taremi che sicuramente è l'alter ego oggi la prima alternativa a una delle due punte c'è una gestione diversa delle risorse ovvero oggi è tirato fuori Correa forse lo ha detto fuori prima lo stesso Arnautovic però Marco Correa tieni presente che Correa a Genova quando c'è bisogno di una punta lui avanza a Michitane piuttosto che mettere Correa oggi lo mette ma ti dico una cosa l'autauro delle ultime prestazioni ragazzi ha mai calciato in porta no no dico solo una cosa ha mai calciato in porta con Atalanta e col Monza l'Atalanta ha fatto quella spropiciata sbagliata e non ha mai preso la porta oggi invece quel tiro altissimo ha calciato sta male ha calciato male allora ti dico una cosa ti dico ancora di più ok vero sfortunati con Taremi dobbiamo sicuramente un buon acquisto mi ha detto che ha completato la Rosetta ma oggettivamente nei ruoli chiave ok perché l'anno scorso c'è un luogo che ha fatto 200 partite ok però l'anno scorso Frattesi Aslani prima ricordavo Firenze e Lecce hanno giocato proprio in Coppia a Firenze l'Inter non supera la metà campo per 80 minuti ok se non parla rigore sombra rigore che non c'era ok però la Fiorentina fa 80 minuti possesso palla nella metà campo dell'Inter l'ho vista benissimo la partita non sono Barella e Cialanoglu e come? non sono Barella e Cialanoglu eh lo so quindi allora è una vera se manca Cialanoglu l'Inter ha un problema se non sta bene Lautaro e non sta bene c'è la volontà di farlo giocare necessariamente perché va bene uno è in ritardo di condizione ma gli altri sono l'altezza la volontà di tenere 5 punte cioè è una campagna giusta questa è un pensiero giusto che ha fatto l'Inter quella di tenere 5 punte allora però secondo me se poi dopo non hai la forza di metterlo in campo non ci credi secondo me c'è il tema che sono cambiati 4 però se ti devo dire che gli altri 7 hanno fatto il loro no per me oggi l'Inter è insufficiente proprio come squadra poi dopo si tratta la squadra ai 3 sufficienti e 7 insufficienti fanno fatica tutti per esempio Turam che ha fatto un inizio fortissimo e con la Francia ha fatto comunque due mezzi spezzoni oggi impalpabile ha fatto quel colpo di testa però al di là di Turam sull'autaro vi volevo dare un elemento in più perché ha avuto la possibilità la fortuna di parlare con Inzaghi alla vigilia della finale di Coppa America quando era la presentazione della stagione fuori diciamo dalla conferenza e io avevo proprio chiesto visto che questi poveracci non si fermano mai perché sì hanno i miliardi ho capito però non è che sono robot ho detto non sarebbe utile fargli fare la preparazione visto si pensava tornasse l'8 agosto lui siccome si era infortunato Taremi è tornato il 6 e l'hanno tra l'altro buttato in campo il 17 io disse al mister ma non si può fare un discorso coadjuvato con l'Argentina fai di saltare i primi quei 15 giorni di sosta per andare a giocare le prime tre partite al massimo va in panchina ma tu il 10-13 settembre hai un giocatore che ha fatto un mese di preparazione vera e un mese di vacanza e ce l'hai tu sai che il 13 settembre ce l'hai e lui mi ha detto che nel calcio di oggi mi ha detto di no la risposta era no perché nel calcio di oggi intanto intanto quando vai in vacanza hai una preparazione da fare cioè tu in vacanza stai fermo cioè quando Lautaro è tornato è tornato con un programma che dovevi rispettare l'ha rispettato bene lui gli ha dato due giorni extra di vacanza lui siccome è il leader del gruppo ha visto che Taremi era infortunato è tornato prima col Genova voleva pure giocare però che succede che poi l'affaticamento e ti fermi la nazionale ti chiama lui non vuole rinunciare alla nazionale non c'era Messi ha fatto più di 90 minuti pure la seconda partita però il problema è che si sta vedendo quello che succede ma questo è un problema tu hai ragione Francesco perché Lautaro oggi non è Lautaro è un giocatore al mezzo servizio e se continua così a fare parte adesso non faccio secondo me è un po' col seno di poi io non parto con Lautaro dall'inizio parto con Taremi se poi le cose non funzionano magari metto Lautaro però qui Paolo doveva giocare Taremi oggi a meno gestione doveva giocare sembra che sia tornato dall'Iran con un mezzo affaticamento c'era rischioso fargli fare 60 minuti no no però è entrato cioè voglio dire poi lo metti poi decidi se toglierlo se non sta bene però mettere Lautaro dall'inizio ha praticamente presentato un giocatore di gioco di parole impresentabile secondo me e quindi non hai fatto un buon servizio né a lui forse neanche alla squadra perché adesso ci sono i prossimi due appuntamenti importanti e ti trovi con un giocatore con le ruote sgonfie secondo me non è stata una gestione magari un po' col seno di poi però intanto per quello che abbiamo visto non è stata una gran scelta come gestione ti dico Paolo che Pizzaghi è scientifico nella gestione con l'eccezione Lautaro è importante perché tu hai creato una situazione di difficoltà al giocatore anche se lui ha la volontà di giocare tu devi avere la forza devi avere la forza sono d'accordo ma in questo caso dopo Lautaro non è nella condizione di poterlo fare per quanto generoso sia ma poi ti posso dare un altro elemento finale Lautaro quando non vinci è sempre arrabbiatissimo oggi da capitano andava a incoraggiare tutti a fine partita come verità su ragazzi andiamo sotto la gula voleva intervenire anche in questo discorso di Inter Lautaro credo sì perché l'ho già detto prima secondo me l'Inter ha iniziato la partita pensando di prima o poi fare un gol cioè questa era l'idea perché se andiamo a guardare la differenza di valori potevamo tutti quanti pensare questo non ha approfittato del primo tempo soprattutto del Monza perché quando è finito il primo tempo tutti quanti abbiamo detto che brutta partita che un Monza così rinunciatario l'Inter vera perché oggi l'Inter come avete rimarcato correttamente è mancata in 4-5 almeno elementi importanti che hanno sono stati decisamente sotto tono è lì che dovevi cambiare marcia aggredire invece nel primo tempo l'Inter ha avuto un quarto d'ora dove praticamente non l'abbiamo vista abbiamo detto brutta partita ma perché perché non hanno pressato non hanno spinto non erano veloci tutto questo ha portato ad un risultato come questo che alla fine poi va già bene perché è stato riacciuffato comunque la gestione degli attaccanti al volo tu poi alla fine ti attiri le critiche perché hai fatto il doppio cambio con Re Arnautovic se tu gestisci meglio non metti Lautaro e forse ripeto pari con Taremi non sei costretto a fare magari quel doppio cambio cioè magari non vuoi mettere Taremi parti con Arnautovic comunque giocavi con Monza che poi alla fine si è rivelato ostico però se non li metti una partita con Monza e a questo punto della stagione ragazzi due minuti come dice il nostro titolo l'Inter frena e il Napoli si ritrova in testa da solo perché poi dobbiamo un attimo unire un po' i puntini di questa giornata di campionato che finirà in realtà soltanto domani sera perché ci sono altre due partite Parmo Udinese aree 18.30 e poi in serata Lazio-Verona per assurdo l'Udinese vincendo può andare solo in testa alla classifica è vero è vero numeri alla mano è così adesso invece in testa da solo alla classifica c'è il Napoli di Antonio Conte che insomma ha vinto bene 4-0 in quel di Cagliari intanto sto vedendo nelle nostre immagini di servizio Simone Inzaghi quindi Michi ascoltatelo con calma che poi ci racconti quello che ha detto settimana prossima ragazzi a parte il derby di Milano c'è Juventus-Napoli è un Napoli che si presenta primo in classifica in casa della Juve beh diventa interessante la cosa eh Paolo? assolutamente probabilmente non sarà la stessa partita che abbiamo visto ieri della Juve a Empoli dove non ha trovato spazio dove è stata lenta nel giropalla con un Empoli così aggressivo secondo me potrà distendersi meglio ehm la Juve poi parliamo di versiamo sul Napoli perché è interessante onestamente dopo l'interno di Verona sì c'è la classifica ma poi c'è la fascinazione del ritorno di Antonio Conte a Torino lui avrebbe voluto andare alla Juventus ehm l'aveva anche dichiarato non l'hanno neanche provato a cercarlo cioè nel senso che avevano fatto un'altra scelta quindi sarà molto motivato è anche interessante vedere questa questa sfida tra quello che è stato e quello che poteva essere cioè Tiago Motta Conte eh sì tra l'altro ehm guardo le partite del Napoli Napoli che ha Juventus-Napoli super partita ovviamente niente da dire c'è poi l'impegno in Coppa Italia con il Palermo un buon calendario ma poi c'è Napoli-Monza Napoli-Como Empoli-Napoli e Napoli-Lecce sì sì poi giustamente dite guarda anche quelle dopo ci mancherebbe Milan-Napoli Napoli-Atalanta Inter-Napoli Napoli-Roma Torino-Napoli cioè poi arrivano quelle toste però però intanto inizia a fare un filotto in quelle partite eh capito se non perdi ti porti in cascina non perdi con la Juve fai un punto dico con la Juve e poi riesci a farne quattro nelle tre partite successive che mi sembrano comunque eh fattibili vuol dire mettere ai nove punti che hai adesso aggiungerne dico io tredici con quattro vittorie e un pareggio eh vuol dire arrivare a quota 22 punti magari poi quando arrivi a fare le partite gli scontri diretti veri però ci arrivi da primo in classifica con quella circolo virtuoso che ti si crea anche all'interno dello spogliatoio si ma allora si sta prospettando un campionato interessante perché questo perché perché guardiamo le quattro partite dell'Inter comunque la prestazione di Genova è stata una discreta prestazione meglio Genova di stasera sì meglio Genova di stasera però anche se il Genova il Genova ha pareggiato non ha rubato in senso clamoroso oggi gli è data bene pareggiare perché di fatto per quanto poi il pareggio sia giusto perché quello si è visto in campo però ci si aspettava veramente qualcosa in più dopo l'Atalanta dicevamo che l'Inter aveva ancora quella sensazione di forza rispetto alle altre in maniera clamorosa questo mi sembra che in questo inizio campionato l'Inter abbia avuto qualche calo rispetto lo scorso anno quando era difficile trovarla in una prestazione negativa quest'anno è successo già due volte quasi su quattro se alleghiamo a questo che comunque la Juve è in un processo di crescita che ha fatto un po' di fatica nelle ultime due ok e Milano è netta difficoltà il Napoli stesso se trova una quadra può rientrare fortemente fra le fra le scusatemi ecco l'immagine che stavamo aspettando e stavamo cercando eh con i giocatori del Monza che reclamano apre le braccia Pairetto come dire e che ne sapevo io cioè come potevo immaginare che finiste basta aspettare ma quello del Monza guardate un po' guardate un po' qui c'è il fallo dopo che prende il fallo guarda qui c'è il fallo hai visto? però ragazzi scusate questo è un errore di Pairetto è un errore grave questo questo è un errore grave dopo si sono fermati a ragione tant'è vero che la gestualità di Pairetto che dice fa così come dire ormai ho fischiato ormai ho fischiato è abbastanza eloquente è un errore è un errore assurdo c'è sempre il dubbio che il fisco fermi ma sicuramente si ferma ma di fatto comunque è un uno contro uno Di Marco voi mi facevate notare no ma c'è Pessina che fa oltre Di Marco sì ma dico Di Marco controlla Pessina in quel momento sbaglio chi è con la palla che sta per entrare in aree Pessina guardate il giocatore che prende il fallo guardate il fallo guarda adesso cosa fa pum hai visto? Di Marco è da giurice Pessina è solo entra in porta Pessina però Di Marco esatto sta pensando a giurice Di Marco scalerebbe scalerebbe ma scala in ritardo Pessina va in porta era Pessina contro Sommer uno contro uno all'ultima azione però secondo me è abbastanza Francesco è un errore grave di Pairetto anche sì no stavo ascoltando Marelli dice parla di errore grave di Pairetto ma abbiamo visto subito ma è errore grave perché la direttiva che viene da allora le cose le vediamo ogni tanto giuste anche noi dai ma l'ho già detto prima ma perché si è fatto male no 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 nel senso che Ricchi l'hanno scorso ma gli è uscito il tifoso perché se te lo dice no Marelli attenzione voglio dire non mettete in bocca avrà più competenza nostra mia e tua vediamo l'azione è un errore però è un errore avendo visto l'azione è un errore grave è un errore però a prescindere da partire è un errore la direttiva agli arbitri qual è? di aspettare per vedere lo sviluppo dell'azione delle volte vediamo dei fischi dopo alcuni secondi ma ti parlo anche di 4-5-6 che sono lunghi qua invece è un buon discorso ci sono due precedenti che sono passati alla storia il caso Sarra il caso Sarra e Monza Inter guarda caso Monza Inter è il 3-1 dell'Inter tolto finisce 2-2 mancavano abbiamo detto 10 minuti volevo dire se volete cosa ha detto per Monza Inter era diversa come tipologia completamente ha fischiato prima per un fallo che non c'era e ha fatto il cross non è legata all'applicazione della norma del vantaggio no era il fatto che disinnesca il bario ha fischiato un fallo la norma del vantaggio è il famoso Sarra in Milastezia no era solo il fatto di disinnescare il bario dove lì oltretutto il gol era stato fatto sì 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 qua volendo l'unica cosa che possiamo dire che il giocatore sta andando solo davanti al portiere però lo può anche sbagliare cioè può tirare al portiere o tirare fuori parlo di campionato Serie A però in questo caso l'abbiamo detto subito poi sì ma allora chi ha visto bene è Ricchi perché ha detto che l'Inter ha sempre tenuto botta l'anno scorso quando giocava in anticipo la capolista e ha tenuto bene la pressione però con quanti aiuti ha tenuto la pressione in questo caso non si difatti hanno cognato anche quest'anno Marco hanno cognato la marotta lì non si sa perché così perché dei pazzi mi piace inescarezio mi riporti due battute di Simone Inzaghi invece Inzaghi ha detto l'approccio gli era piaciuto i primi 20 minuti che era un po' quello che avevamo visto anche noi perché ha detto quelle occasioni c'è il tiro di Di Marco il colpo di testa di Lautaro ha detto lì le devi sbloccare le partite l'anno scorso ha detto era una partita anche quella poi finì 5-1 abbiamo avuto difficoltà a sbloccarla però poi siamo stati bravi a sbloccarla e la incanali dopo il ventesimo ha detto in effetti siamo andati più piano abbiamo rallentato anche nel secondo tempo col Monza che si chiudeva molto bene si è parlato di ottima partita del Monza anche prima con Nesta parlavano di ottima partita del Monza perché si è chiuso bene e ha detto poi nel momento del nostro massimo sforzo con le tre punte abbiamo preso un euro goal quello di Danimoto e quindi lì diventa anche diciamo non scontato alla reazione quindi si porta a casa la reazione non la mette su chi ha giocato sugli assenti quello no ha detto no assolutamente frattesi Aslani hanno fatto quello che dovevano quello che dovevano fare ecco forse la critica che fa sui ritmi lenti e sul non aver sbloccato e concretizzato quelle due occasioni iniziali questo per quanto riguarda l'Inter era giusto ritornare perché finalmente abbiamo avuto l'opportunità di rivedere questa azione finale che tanto perplessi ci aveva lasciati per chiudere il discorso Napoli vi aspettavate un Napoli già così protagonista nel campionato no Ezio? no non così soprattutto alla luce della partita di Verona dove avevamo visto un Napoli cosa ti posso dire sul classato dal Verona ci può stare anche col Parma ha giocato molto male e lì mi avete dato del tifoso e tutto quanto però basta vedere la partita dai il portiere che non è portiere importa 11 minuti di recupero tutto quello che vogliamo un po' di fortuna lì c'è stata adesso magari arrivano così belli carichi e tronfi allo Juventus Stadium e vinciamo noi questa è la mia speranza quella è la speranza giustamente però insomma è un Napoli che diventa decisamente credibile a me aveva sorpreso per quanto poi andiamo ad analizzare se Ezio prima della partita diceva il Cagliari oggi ha messo in difficoltà il Napoli per 60 minuti circa devo dire che il Napoli a Verona se guardi il complesso della partita non merita di perdere 3 a 0 cioè si scioglie no sono quei risultati sì che se guardi solo il risultato ecco diciamo la guardia una parte non è un 3 a 0 per quello che si è visto ma quello di oggi in particolare perché sull'1 a 0 il Cagliari va bene se e ma non valgono niente ma il Cagliari ha avuto delle occasioni per pareggiare la gara possiamo anche dire che a livello di calendario rispetto a Interminane Juve ha avuto un calendario più facile forse perché c'è stato già Inter-Atalanta c'è stato Juventus-Roma c'è stato Lazio-Milan il Napoli di fatto ha giocato con squadre sulla carta ha avuto un bel campo no però Juve-Roma sono due punti cioè Juve-Roma è comunque una partita più difficile sicuro di Napoli-Paro anche se in questo momento come era messa la Roma io credo che inizialmente non mi faceva tanta paura secondo me un'idea di come un'idea più più approfondita e comunque più più pungente la potremmo avere la prossima sosta quella di ottobre Ricchi più partite passano dopo quattro giornate ti posso dire che Napoli secondo me è in testa la classifica perché ha vinto tre partite non ha persa una così così sì ma Francesco aveva chiesto se ci aspettavamo un Napoli in testa a questo punto non a ottobre lui ha chiesto se ci aspettavamo a questo punto del campionato un Napoli così rifatto io Paolo quando sono usciti i calendari sì perché avevamo visto la Juve alla decima il Milan è un calendario che sembrava potesse lanciarlo poi dopo quando ho visto Verona-Napoli anche io ho detto dove vogliono andare è più merito del Napoli Napoli ha vinto tre partite su quattro non è che ha fatto qualcosa c'è da dire che a nove punti la prima è passa o è demerito delle altre questa è la domanda c'è sempre tutti e due su questo discorso la Juve viene da due pareggi deludenti l'Inter è un po' di merito di casa pareggia ovviamente però il Napoli che si presenta però con la Roma ci può stare con un 4 a 0 a Cagliari beh insomma con Lukaku che segna da due gare consecutive l'intesa con Quaraschelle che sta migliorando di partita in partita le alternative perché comunque McTominay Gilmour sono stati piano piano inseriti Di Lorenzo che sembra tornato a livelli non dico da scudetto ma quasi volendo oggi è una squadra che lavora bene ma McTominay e anche Neres poi è entrato c'è veramente della qualità ha dei cambi pazzeschi e della qualità incredibile queste sono le prossime partite del Napoli ripetiamo Juventus-Napoli Napoli-Palermo di Coppa Italia poi c'è Monza-Como andando oltre cos'è che vi ho detto Lecce mi pare Empoli se non sbaglio ha un periodo tra settembre e ottobre particolarmente importante tale da poter permettere al Napoli di accumulare punti vantaggio dove puoi pronosticare i tre punti tenete conto che mentre Napoli affronta queste qui le altre hanno la Europa League la Champions League è quello è il problema che quest'anno ancora di più sarà una corsa di resistenza e nella corsa di resistenza c'è chi ha meno pesi addosso correndo in più ha la Rosa Forte in più l'Allena Conte che è quello che ha già vinto gli scudetti quando non ha le coppe per me oggi il Napoli è proprio il titolo il Napoli fa paura il Napoli di Conte oggi fa paura perché se la Juve e l'Inter si addormentano anche alla domanda famosa di Francesco vi aspettavate Napoli lì con la partenza e anche il dramma che ha costruito Conte intorno a questa falsa partenza mi ha stupito più quello in maniera negativa che diciamo oggi trovarlo in testa la classifica mi domando se l'Inter o comunque queste grandi hanno queste titubanze adesso che non ci sono gli impegni diciamo infrasettimanali quando ci saranno comunque non era il momento per perdere punti di questo per quanto tu sia in costruzione per quanto il mercato non fosse chiuso per quanto sia stata la nazionale non era il momento per perdere punti lì dipende dalle rose Marco lo sai bene perché se tu hai una rosa di 22 titolari invece questa sera abbiamo visto con l'Inter che ha fatto un po' di turnoda non è stata così l'Inter è una cosa più completa io non lo so perché sento degli allenatori Allegri era uno che diceva non sempre non giocare le coppe non giocare il martedì e il mercoledì è un vantaggio è chiaro che rischi più negli infortuni però ti condiziona oggi l'Inter magari con Cialano con Barella con tutti i titolari Riccardo è costretto a farlo invece il Napoli può non farlo poi ha una rosa che ha aumentato le operative soprattutto ha un giocatore che ha fatto dire a Conte oggi sono più tranquillo quando l'ha fatto che Lukaku Lukaku Monza-Inter Lukaku se giochi una volta alla settimana e quindi si allena in settimana parti 1-0 con tutte queste squadre almeno almeno 1-0